ciao a tutti e benvenuti su un nuovo video oggi il video svuota la spesa mettiamola così da dm amica farmacia un haul su amica farmacia e due beauty box di maggio però se vi piace il rosetto che ho sulle labbra che è una tinta labbra è di cat fondi e vampirina nella colorazione vampirina come lo vedete solo che è più solo che è più matte io ho messo sempre un lucido perché mi piaceva così oggi poi innanzitutto se non siete iscritti al mio canale vi ricordo di iscrivervi qua sotto cliccando sul pulsantino iscriviti e attivando la campanella di fianco così vi arriva la notifica quando esce un nuovo video se vi piace questo video non volete vedere gli altri vi ricordo di mollarci un bel like e se volete seguitemi anche su instagram vi lascio il link diretto nell'info box partiamo subito dal piccolo haul che ho fatto appunto sul sito amica farmacia allora ne avevo fatto uno prima per la festa della mamma e la mamma stavo dicendo dove gli ho preso una crema per il viso per me ho preso questa maschera di lirac una è idratante e una è supra radiance quindi luminosità quella idratante l'ho già provata ne avevo comprata una appunto fatta con due dosi buonissima mi è piaciuta tantissimo l'ho appena terminata e l'ho voluta ricomprare appunto questa e poi provare anche quella illuminante poi se spendevate un tot con lirac vi davano questo set appunto di prodotti lirac e potete trovare dentro potevate trovare dentro perché non penso che c'è più era proprio una promo per la festa della mamma la crema in mousse che è questa poi un'acqua energizzante rimpolpante ossigenante che è questa qua poi la crema gel crema idratante ossigenante idratante rimpolpante questa e questo è un latte id survivor impolpante 48 ore allora questo 30 ml 30 ml 10 ml e 50 ml quindi dei buon campioncini tra virgolette poi il secondo ordine che ho fatto vabbè è partito le pastille per l'allergia e poi cosa fai? non butti dentro anche qualcosa di beauty allora ho preso questo detergente viso mani viso antilacrima delicato di equilibrio a baby, appunto per i bambini però lo utilizzerò io questo è senza slas sls, parabeni coloranti petrolati delicatamente profumato senza allergeni indicato per pelli delicati e sensibili lo utilizzerò io come detergente viso sono 250 ml ha il 98% di origine naturale 20% di aloe vera vabbè è nickel test e niente, questo qua aspettate che vi dico anche velocemente i prezzi se lo trovo li trovo 4 euro e 60 pagato quindi era in super offerta poi ho preso questo di rilastil che non ho mai provato niente e questa è un'acqua detergente viso sempre un detergente per il viso però fatto in acqua questo qua è adatto a tutti i tipi di pelle c'è scritto e vediamo come è dentro fatto a tubo così appunto detergente viso della linea acqua penso idratante ed equilibrante con acido ianuronico ad alto e basso peso molecolare ceramidi ed omega 6 questo non vedo l'ora di provarlo sono 200 ml e con questo in omaggio ci davano questo campioncino sempre della linea acqua una gel crema idratante intensivo con acido ianuronico ad alto e basso peso molecolare ceramidi 72 ore di idratazione continua 15 ml anche questo presumo che sia il classico campioncino e appunto il detergente viso acqua di relastillo ho pagato adesso ve lo dico 10 euro e 40 questo 10 euro e 40 colorino omaggio ok poi poi come un altro campioncino mi hanno messo dentro di la rojo quasi una crema idratante si questa qua e basta ah no e poi anche questo che è una crema idratante di setafil dovrebbe essere la marca crema idratante viso e corpo pelli secche molto secche sensibili questa da provare passiamo agli acquisti fatti da dm c'è un po' di tutto allora partiamo le cose così non tanto interessanti cotton fioc della marca ebilin idm pagati 99 centesimi ci sono la confezione rosa e azzurra io scelto quella azzurra poi ho preso un ammorbidente per la mia mamma questo della del marchio dank meat frisci questo qua una colazione verde ha ammorbidente freschezza intensa 1 euro e 29 pagato ha una profumazione sentiamola di pulito di profumo pulito poi vabbè ho preso questi per il cane per il mio camionino di purina ha il gusto cervo che mi piacciono tantissimo pagati 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 se lo trovo sarei anche sì questi qua 1 euro e 15 se vi interessa poi ho preso lo sfruzzino del naso il nivolis spray nasale decongestionante io ho quello col tappo verdino questa volta ho voluto provare questo bianco vedremo com'è quello quello lì l'ho pagato l'ho pagato l'ho pagato l'ho pagato l'ho pagato quindi la compro lì o d'acqua e sapore appunto sollievo allo stomaco ne ho prese due confezioni una l'ho già messa no l'ho lasciata a casa nel numeroso quindi queste qua questa pagata angelica tisana 2 euro e 49 poi 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 vabbè passiamo alle cose più no il mio fidanzato ha preso un filo interdentale questo è del marchio jordan ha voluto prendere questo che gli darò pagato pagato 3 euro e 99 poi un sapone per le mani al cocco mani delicato al profumo al delicato profumo di cocco 250 ml mi piaciuta la confezione con questo punto rosa pagata 99 centesimi se non mi ricordo male non è vero pagata sì 99 centesimi passiamo alle cose un po più succulenti ho preso questa maschera per il viso in tessuto è una maschera viso idratante con acido ialuronico ed è stato di eucalipto mi piaciuto la confezione con il koala sopra appunto della linea balea questa un euro e 99 se non ricordo male non mi ricordo male allora perché non trovo più prezzi sapone l'ho appena vista l'ho appena vista l'ho appena vista e non la trovo più ho preso i patch occhi di garnier che avevo già provato che mi piacciono antifatica pagati 2 euro e 49 poi un peeling per il corpo sempre del marchio balea questo qua era in offerta è un balea olio peeling per il corpo al sale marino sono 300 ml questo era scontato me lo ricordo e l'ho pagato 3 euro e 49 poi ho preso cioè il mio fidanzato ha voluto l'acqua distillata alle rose tonico rinfrescante della roberts io non l'ho mai provato l'ha voluto lui non ho capito per che cosa però l'ha voluto lui l'ha comprato lui 300 ml pagato 3 e 29 poi una schiuma per rasatura sempre di balea questa qua con il pack rosa c'erano due tipi balea per depilazione con proteine della seta e olio di avocado 150 ml per pelli sensibili niente da provare visto che ho finito la mia e vedrete nei prodotti terminati quindi ho voluto prendere quella lì e l'ho pagata l'ho pagata 1 euro e 59 poi ho preso questo profumino di tesori di orienti che non ho mai provato in questa confezione gialla il mio capello non c'entra e blu mi è piaciuto tantissimo ha gizu profume aromatico giglio blu del nilo ha questa profumazione questa l'avevo già sniffata il negozio dolce orientale buona a me piace comunque 3 euro e 99 infine sempre appunto di balea un peeling crema con olio di nocciole di albicocca per il viso questo qua non l'ho mai provato e l'ho voluto comprare e l'ho pagato 1 euro e 79 e infine questo rossetto matitone labbra del marchio trend it up nella colorazione 0,50 pagato 2 euro perché era in offerta e questo se riesco ad aprirvelo ok color ciclamino così lo proverò passiamo alle beauty box del mese ce ne sono solo due perché una non è ancora arrivata ma vabbè ve la farò vedere su instagram allora partiamo da quella vabbè dai di my beauty box fatta così questo mese allora troviamo dentro io l'ho già aperta ho già sbirciato vi spiega che cosa c'è dentro e i vari sconti ci sono dentro così vi dico se potete trovarla in fuzzai le cose dentro o questi sono gli sconti che vi lasciano dentro allora questo mese potete trovare però mi sa che voi lo vedete a giugno o questi sono di maggio uno shampoo di Escaline per capelli fini e sfibrati fortificante e volumizzante in travel size poi un proteggi labbra di Hawaiian Tropic con SPF 30 quindi ottimo poi di Dermopsicologic un corno corno age white quindi una crema per il viso illuminante schiarente per le macchie sono 50 ml e quella lì è un formato in full size ok poi uno uno scrub per il corpo così di Green Rose no al Green Rose di Sabon penso che sia il marchio sì giusto questa è una travel size da 60 grammi poi di Belloggi un ombretto sento che è il marchio Belloggi un ombretto e io l'ho trovato questo qua verde il dito è mio l'avevo già provato è in crema nella colorazione 04 poi per finire di Davines una maschera per i capelli rivitalizzante per cute e capelli stressati sono 50 ml e questa è una full size e infine questo termotherapy gel sollievo rapido in due fasi dolore alla schiena alla spalla al braccio dura 6 ore e questo qua vi faccio vedere un attimo quella di look fantastic e poi abbiamo terminato mettiamo via questo velocemente look fantastic questo mese è azzurra esce un profumo buonissimo però i prodotti di qua sono sempre più pochini anche di qua un balsamo labbra di burt bis questo fucsia io l'ho trovato al watermelon poi di The Vintage Cosmetic no Cosmetic questa spugnetta per lavare tipo sfogliante per lavare o i pennelli o utilizzarla voi sul viso di dottor botanicas questo mese troviamo un contorno occhi si questo KV al kiwi di this works una crema stress check king hands no una crema per le mani si questa e infine scusate vado in più il naso un peeling mask del marchio e con king dovrebbe essere e vegan ok questo qua è il marchio sono 15 ml quindi un peeling maschera per il viso basta ecco questi qua sono stati tutti i prodotti di questo mese comprati e beauty box io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti